Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 35esimo episodio della nostra Master League con la Roma signori Allora, prima di partire il video vi devo dire che sto registrando in rapida successione come è successo la scorsa settimana anche in questa quindi sto registrando dopo l'episodio di ieri, quindi non ho il tempo di leggere i vostri commenti e prendere le dovute modifiche ma li leggo comunque, quindi lasciatemi sempre tanti commenti che ne farò tesoro Detto questo signori, prima di partire il video vi ringrazio per i commenti presenti e per il supporto vi ricordo di iscrivervi al canale e detto questo da parte mia avete il più grande ringraziamento per tutto il supporto che date alla serie e al canale Detto questo signori, noi veniamo da uno scorso episodio in cui abbiamo pareggiato contro il Chelsea che in tutto questo il Chelsea era dodicesimo, 7 punti, 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte, va bene, va bene, ci sta Noi abbiamo 5 punti quindi non possiamo comprare nessun altro tipo di giocatore Procediamo al prossimo incontro Sì, procediamo al prossimo incontro Decisi e convinti delle nostre scelte Anche quella di Stokavic che signori, nello scorso video di ieri mi ha fortemente deluso Mi ha fortemente deluso Allora, andiamo a modificare nuovamente la formazione Andiamo a modificare, siamo ente utente Ok, se la ricorda Perfetto, è giustante, sto registrando in rapida successione rispetto a ieri Quindi, se la ricorda Detto questo, non possiamo Cambio di giocatore, devo andare a modificare nuovamente tutta la rosa Che è rottura di scatole infinita Allora Ducic e Jorga Jorga esce per Cafu Giordi lo andiamo a mettere al posto di Ximenez Sì, lo andiamo a mettere sulla fascia, sul posto di Miranda Castello per... no, Harry Per... cosa cazzo la sto facendo signori? Harry attaccante Giordi sulla sinistra A posto di Castello gioca Babangita Totti va a fare il mediano Insieme a Vorlander che è tornato fra i titolari Mamma mia quanto mi sei mancato Vorlanden E a posto di... A posto di chi? A posto di Espimas mi gioca Stoekavic Signori E ce l'abbiamo, lo dobbiamo fare giocare Quindi Vorlanden, Totti davanti alla difesa Stoekavic, Harry, Jordi e Babangita Mi fanno fare una prova Copia formazione Sei sicuro di poter copiare questi dati? Sì Vediamo se riusciamo la prossima volta a non dover utilizzare Possiamo decisamente scendere in campo senza dover perdere mezz'ora a far contro... Contro l'Inter! Aieieiei Contro l'Inter, signori Contro l'Inter Gioca Ronaldo titolare? No, non vedo nessun pelatone in campo Quindi non c'è Ronaldo titolare E io, vedete, questa è una cosa All'altra volta guardavo la classifica dei cannonieri La classifica dei gol in campionato E Ronaldo ne ha fatti pochissimi Ronaldo ne ha fatti pochissimi Attenzione, Alex Di Biagio Cosa cazzo allora è successo? Ci hanno bucato difensivamente in maniera terribile Ci ha segnato Di Biagio Mi sono andata pure via la voce, signori Ci ha segnato Di Biagio Cioè, Alex Ma di che cazzo le stanno a parlare? Ma vi sembra normale una cosa di questo genere? Babanji Che cazzo non era? Babanji da mio Peruzzi all'Inter Mamma mia Quando l'allenava Lippi Che si portò in mezzo a Juventus Si portò in mezzo a Juventus all'Inter Non lo so Stanno facendo quello che vogliono I nostri in difesa sono completamente ubriachi Giorni Giorni Come si pronuncia? Vabbè, è inutile che vi chiedo come si pronuncia giusto Perché non siamo in live Quindi non mi potete Non siamo in audio più che altro Non mi potete mandare audio Quindi non so come siamo Lo chiameremo Giorni 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 Lo chiamiamo Johnny, signori Mi sta più simpatico chiamarlo Johnny Come Johnny bravo Johnny, 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 Johnny Se ne va Grandissimo Johnny Johnny, 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 Johnny C'è lo spazio Johnny, c'è lo spazio C'è lo spazio Johnny mio, mannaggia Sì, ci ho provato Dai, dai Ma chi, mannaggia Attenzione Ducic Che cazzo ci fa Ducic lì? Babanji da, babanji da, babanji da, babanji da Prova anche la persona Morire troppo Grandis No, non era fuori gioco mai nella vita Cordoba Grande Ivan Arramiro Cordoba Un attimino di voce che se n'è andata Perché sono ancora scioccato dal Dal gol di vantaggio loro Johnny, 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 Johnny Johnny per bamba Babanji da mio però Cazzarola Attenzione a Setor Attenzione a Setor Grandissimo, Valery Attenzione a babanji da È partito babanji da Babanji da contro Cordoba Duello in velocità È partito babanji da Duello in velocità C'avevo il rì lì C'avevo il rì Non posso solamente passarla Totti Totti per Stokavic Stokavic Troppo macchinoso Stokavic Ma riesce comunque a girarsi Che vede Stromer Che si gira È la piazza Stromer La pareggia Attenzione Prepariamoci alla fine del mondo Signori Ha segnato Stromer Secondo gol in campionato Bravo Stokavic Questa volta L'ha passata E Stromer D'esterno addirittura Mamma mia Trova il gol del pareggio Roma 1 Inter 1 Importante Importante aver trovato il gol del pareggio Signori Importante aver trovato il gol del pareggio Mamma mia Ivanov Cosa ha fatto Mamma mia Ivanov Re Coba Re Coba Secondo voi Come trequartista potrebbe rendere Signori Se dovessimo avere i soldi Cosa che non avremmo mai Grandissimo No 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 Mamma mia Ducic Ducic Grandissimo l'intervento difensivo Su Sedorf Attenzione Attenzione Vorlanden 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 Valeri salva tutto No 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 Grandissimo Totti Muro umano di Totti Muro umano di Totti Che poi passa Stokavic 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 Di Attenzione 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 Ivanov Grandissimo Grandissimo Ivanov Con calma Per Valeri Valeri Per Cafu Cafu Per il Bamba Il Bamba Che fa fuori il difensore Attenzione Attenzione Fa fuori due Ne fa fuori tre Attenzione Babangita 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 La volevo crossare Signore La volevo crossare Mi hanno anticipato Sul cross Ve lo chiederò Anche nel prossimo video Secondo voi Re Coba Come trequartista Può rendere? No Ma è fuori gioco Ma era fuori gioco Ma che cazzo Lo sta dicendo Era fuori gioco Cioè Me lo fai vedere così Certo Così non posso valutare Il fuori gioco Ma baffanbagno Ducic Ducic Per Johnny 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 per Vorlangen Vorlangen Per Ducic Ducic per Johnny Buono l'1-2 Su quella fascia Allora Quando è arrivato Johnny Siamo sbloccati anche Su quella fascia Signori Decisamente sì Però Cazzarola Non ci facciamo bruciare No No Grandissimo Valery Totti 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 Bamba Il Bamba Che ha le praterie Il Bamba Che ha le praterie Se ne va No Bamba mia Non puoi puntare Cordoba Però porca miseria Infame Grandissimo Cafu 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 Per il Bamba Il Bamba Il Bamba Il Bamba Il Bamba Si mette Niente Signori Con l'analogico Mi miscivano le dita Cafu Si becca un cartellino giallo Per farlo sul Cordoba Trentanovesimo Punizione per l'Inter Battuta Attenzione Seidorf Va bene Quello è esagerato Però Eravamo scoperti Ducic 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 Si allunga tutto Cercato Johnny Scusate Johnny per Stokovic 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 Che vede Babangita Bravo Stokovic Due tre passaggi buoni Di Stokovic oggi Babangita Babangita No Giordi mio Ma porca Ma porca Ma porca Giordi 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 Babangita 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 Attenzione Pressing dell'Inter Babangita 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 Al limite dell'aria Babangita Bubbole Mannaggia Managgia Le bubole Vorlanden Signori Ditemi quello che volete Ma io vorlanden Non lo so No 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 Mamma mia Meno me l'ha buttata fuori Mamma mia L'abbiamo preso una sveglia Dopo pochi minuti Che proprio siamo Impazziti Però l'abbiamo rimessa Sui binari giusti La partita Signori Grandissimo Grandissimo Il recupero No Ma No vabbè Dai Il gioco Mi fa sbagliare Sti passaggi Vorlangen 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 Babangita 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 Riparte lui Il Bamba Il Bamba L'ho detto Che non so Porto l'analogico L'ho già detto Sì Penso di sì Babangita Non lo so Avevi il centrocampista Completamente libero Ci ha visto Icavic Completamente a disposizione Hai fatto L'unica cacata Che non dovevi fare Attenzione di Biagio Sì Vabbè Dai Ma non è vero Ma nella vita Ma di che stiamo a parlare Aia Aia Recopa da lì E' terribile Recopa da lì E' terribile Fortuna prendere la difesa Fuori Va bene Evitiamo il calcio d'angolo Evitiamo il calcio d'angolo Che Mamma mia Zamorano Lo stavamo per prendere Abbiamo cercato di evitare Il calcio d'angolo Ma lo stavamo per prendere Comunque Attenzione Cafu Da un pallone bruttissimo Da Babangita Che però riesce A trovarsi lo spazio Totti però Totti 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 Si fa anticipare Sedorf Sedorf Valeri 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 No 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 Dai Cazzarola Però Queste cagate No Queste cagate In mani No Io non capisco Perché non riesco A fare i passaggi giusti Signori Io capisco Io non capisco Perché non riesco a fare Spiegatemi come è che calcio Dai che fu espulso No Vabbè Dai No No Troppi 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 Dai Vabbè Cioè è logico È logico Dovevano per forza Signori Dovevano per forza Non Non poteva essere diverso Giordi 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 La crossa Babangita È troppo avanti Io non so Porto il fatto Che non mi deve fare Guarda 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 Ma stiamo scherzando Dai Dai così Dai così Stojkavich 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 Però Johnny 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 È partito Johnny Signori È partito Johnny È partito Johnny Che punta l'aria Johnny 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 la pareggia Johnny la pareggia Con l'uomo in meno Johnny la pareggia Grandissimo Johnny Gli abbiamo bucati In una maniera terribile Grandissimo Grandissimo Allora Abbiamo l'uomo in meno Ma non 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 dobbiamo sentirlo Non dobbiamo sentirlo L'assenza dell'uomo Non la dobbiamo sentire Signori Ma porca miseria Harry Harry Non riesce a girarla Per Per Johnny Attenzione a Ducic 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 Vede Johnny Vede Johnny Vede Johnny Vede Johnny Che però Tempareggia troppo Ho aspettato troppo Ho aspettato troppo Devo partire subito Attenzione a Sedov Sedov Vabbè Sedov Ha fatto quello che vuole Eh sì Un altro fall Giallo pure per Stromer Dai Dagli un'altra punizione A Regoba Dai 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 Mamma mia Mianone l'ha buttata fuori Al venticinquesimo Roma 2 Inter 2 Un pallone finalmente deciso Per Johnny 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 mio Ci mette 80 mila anni Per fare un'azione Dai Ma stiamo scherzi No 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 Mamma mia Che palo che hanno preso Signori Al ventinovesimo Che sofferenza Che sofferenza Meno male Meno male Che loro sbagliano pure Che loro sbagliano pure Totti 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 Vede Babangita Vede Babangita Che riesce a partire Il Bamba Il Bamba Il Bamba Il Bamba Il Bamba Sono accendato troppo presto Grandissimo il primo recupero Grandissimo il secondo recupero di Valery Che poi cerca subito Babangita Che decide di partire Si accenda Poi decide di allargarsi di nuovo Babangita 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 No Non ci credo Non ci posso credere Dal 34esimo Grandissima azione Di contropiede della Roma Babangita Ci ha provato E non ci è riuscito però Tutto questo signori Stokavic Sempre più assente dal gioco Non Non Va bene Ecco L'ho nominato Ed è riuscito a fare un buon intervento di testa Attenzione ai giorni Johnny 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 è ripartito di nuovo Johnny è ripartito di nuovo Attenzione a Johnny 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 Il palo Il palo Il palo Il palo Il palo Ma porca Ducic 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 No Non ho più difesa signori Mi state dicendo questo Si Decisamente non ho più difesa Valeri è il mio ultimo Non ci Non ci Mamma mia Meno male che ha fatto Calcio d'angolo Ci posso credere Abbiamo preso Palo Con Johnny Palo con Johnny Signori Palo con Johnny Palo con Johnny Palo con Johnny E l'altra grande azione Con Cafu E l'altra grande azione Con Babangita Che non siamo riusciti A indirizzarla giusta Attenzione Babangita 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 Se ne va Non so come abbia fatto Babangita Mannaggia 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 No 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 Lì non c'è più nessuno Va bene Va bene Minuti di recupero Minuti di recupero Minuti di recupero Evitiamo di perdere Sto pallone In questo momento Della partita Evitiamo di perdere Sto pallone In questo momento Della partita Ma porca No 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 Ducic Johnny Finisce Finisce Che c'è da fare Che c'è da fare La recuperiamo Però Meglio un pareggio Che una sconfitta Altri 4 punticini Portati a casa Siamo a 9 La classifica Piange un pochetto Siamo sesti A 11 punti Va bene Va bene L'Inter era L'Inter era Secondo in campionato Un bello scontro Un bello scontro Detto questo signori Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per i like Per i commenti Per il supporto Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Domani Bella raga Ciao